Solo tu, il tuo cuore, la tua mente e le tue gambe, per affrontare la salita più bella al mondo, il Colle del Nivolè. Domenica 19 giugno 2022, sei pronto a scalare insieme a me questa epica salita? Ho affrontato tante salite in tutto il mondo. Ma sicuramente quella che mi regala ogni volta più emozioni è il Colle del Nivolè, con i suoi 2640 metri di quota. Ho sempre sognato di pedalare su una delle salite più belle al mondo senza la presenza delle macchine. Da soli, accompagnati dai suoni della natura. Tra luscelli, marmotte, aquile, stambecchi e laghi di montagna. Sfidando se stessi su meravigliosi tornanti, li portano piano piano a toccare il cielo con vendito. Per questo abbiamo organizzato il Nivolè Bike Day, con il Gall, Valle del Canavese e Alcotrae in Terregge. una ciclo pedalata all'interno del Parco del Gran Paradiso, con la strada chiusa al traffico, riservata solo agli iscritti alla manifestazione. non mancare! Si può partecipare all'evento solo previa registrazione sul sito www.vikinggal.eu. www.vikinggal.eu.it Ti aspetto per vivere una giornata memorabile insieme! www.vikinggal.eu.it 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 www.vikinggal.eu.it